Prima settimana ricca di appuntamenti per il neosindaco di Vittoria Francesco Aiello, dall'emergenza idrica alla sicurezza cittadina per passare al cimitero comunale in vista delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti. Proprio ieri Aiello e la sua giunta hanno incontrato il gioielliere Sibilla vittima di un furto con la tecnica della spaccata, ovvero con l'utilizzo di un bomb cut a danni di una gioielleria di via Cavour avvenuto nella notte del 25 ottobre. Il sindaco e gli assessori hanno quindi espresso la propria solidarietà al titolare del negozio e alla sua famiglia per i danni subiti a seguito dell'atto criminoso. Il primo cittadino è metamente convocato a una riunione a Palazzo Iacono per affrontare il problema della sicurezza urbana. All'incontro hanno partecipato tutti i rappresentanti sindacali territoriali di CGL, CISL, UIL e UGL e i rappresentanti delle associazioni di categoria, l'associazione Corso Cavour, la ConfCommercio, la ConfEsercenti, la CNA e l'ASCOM di Vittoria. Nel corso della partecipata riunione è stato deciso di chiedere un incontro al prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, per avviare un tavolo di concertazione riguardante le misure più idonee da adottare per la sicurezza urbana. Riteniamo imprescindibile, ha dichiarato Aiello, affrontare il tema della sicurezza laddove viene minata dagli atti criminali che lasciano preoccupazione e inquietudine. È nostro dovere mobilitarci affinché la città rimanga tutelata dalla possibile recrudescenza degli attacchi della criminalità organizzata. Sull'incontro anche il presidente sezionale di ConfCommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, facendo presente che come associazione di categoria è stato evidenziato ad Aiello che in più di un'occasione ConfCommercio si è fatta portavoce in passato della problematica al fine di ottenere riscontri con la presenza di un organico dalle forze dell'ordine all'altezza della situazione al fine di garantire tutte le attività presenti sul territorio cittadino. Il neosindaco è stato quindi sollecitato a farsi portavoce in prefettura a Ragusa per un'azione condivisa con tutte le altre associazioni datoriali di categorie esistenti nella convinzione che per risolvere qualsiasi problematica da soli si va veloci ma insieme si va lontano. Secondo noi, sottolinea ancora Lenzo, bisogna lavorare su due fronti, sia quello della sicurezza, sia del rilancio di una città che si avvicina al Natale e che con il quadrilatero commerciale e nonché con il suo centro storico da anni catalizza l'arrivo di importanti flusse delle città di Mitrofe e della provincia Iblea, ma oltre la legalità e la sicurezza anche tanti appuntamenti con i cittadini, incontri nei quartieri e questa sera anche un comizio di natura politico-amministrativa. Il neosindaco è infatti organizzato per oggi alle 18 in Piazza del Popolo un incontro per poter così ringraziare tutta la città e fare il punto sulle prossime priorità che abbracciano anche la questione di fiuti con la discarica cittadina e la legalità all'interno del mercato ortofrutticolo di Contra D'Afanello.